ciao a tutti in questa estate caldissima e umidissima cercherò di spiegarvi il colpo di calore nel cane nel gatto cercherò di non usare troppi tecnicismi ma cerco di spiegarvi alcuni concetti in modo che capiate perché è molto pericolosa l'estate il caldo il restare nell'auto molto calda nel cane nel gatto rispetto all'uomo perché è importante che lo capiate per evitare che ai vostri animali possa accadere un colpo di calore e cercherò di darvi qualche informazione su come evitare il colpo di calore e cosa fare per evitare il colpo di calore allora cerchiamo un attimo di spiegare fondamentalmente come funziona sia nell'uomo che nei cani nei gatti dovete sapere che fondamentalmente noi abbiamo un centro di termoregolazione ovvero all'interno della nostra scatola cranica abbiamo una una struttura che si chiama ipotalamo che è deputata anche al centro della termoregolazione ovvero serve a far sì che questo centro gestisca l'aumento di temperatura del nostro corpo o il calo della temperatura del nostro corpo facendo delle cose c'è una differenza sostanziale tra l'uomo e il cane il gatto perché gli animali domestici non hanno le ghiandole sudoripere quindi rispetto a noi non sudano o meglio non sudano attraverso le ghiandole sudoripere che nell'uomo è sostanzialmente fondamentale per dissipare il calore quindi noi quando entriamo in un'auto prendiamo come esempio l'auto in un'auto che è stata tantissimo al sole la prima cosa che fa il nostro ipotalamo è dire le ghiandole sudoripere di sudare fondamentalmente nel cane nel gatto invece cosa dice l'ipotalamo gli dice di respirare gli dice di respirare per cercare di dissipare il calore la differenza delle due azioni però è ciò che poi mette in condizione di più rischio di colpo di calore il cane il gatto nel senso che soprattutto quando ci sono umidità altissime la respirazione in realtà la polipnea non permette il calo della temperatura corporea ma anzi c'è un aumento della temperatura e quindi c'è un circolo vizioso un'altra cosa che l'ipotalamo diciamo per semplificare fa è quello di avere una vasodilatazione periferica cioè i vasi a livello di arti di parti terminali degli arti si dilatano in modo che abbiamo una dispersione di calore e quindi il sangue si va nelle nelle parti terminali e quindi abbiamo una serie di problematiche che colpiscono vari organi cervello cuore reni tratto gastroenterico e quindi il rischio di shock elevato e quindi fondamentalmente poi shock morte quindi questo diciamo è il circolo vizioso del colpo di calore e la differenza sostanziale con noi è quella che non sudano quindi ripeto noi quando entriamo in un corpo caldo come può essere una macchina dissipiamo attraverso la sudorazione il cane e il gatto respirano e con un'umidità alta non riescono nemmeno a dissipare ma aumentano inoltre alcune situazioni particolari possono far sì che la situazione è peggiore in fretta per esempio cani brachycefali come per esempio carlino bulldog francese bulldog inglese boston terrier hanno ovviamente dei rischi maggiori per la loro conformazione per la loro sapete che sono cani che fondamentalmente la selezione ha fatto sì che il muso si schiacciasse quindi fanno fatica a respirare introducono meno aria il loro tubo molto spesso anche la trachea è più stretta abbiamo il palato molle più lungo stenosi delle narici quindi c'è una situazione che non permette di dissipare il calore inoltre l'obesità e anche l'attività fisica eccessiva si consiglia durante le ore e l'estate di fare passeggiate non più lunghe di un quarto d'ora 20 minuti e poi fermarsi stare all'ombra cercare di bagnare il proprio cane e farlo bere ovviamente tutto con moderazione cioè nel senso non è che faccio un esempio vi fermate un quarto d'ora prendete il cane lo buttate in un lago ghiacciato perché questo non fa bene al cane però fondamentalmente dovete cercare di ridurre l'accumulo di calore che avviene durante la stagione estiva e durante anche l'attività fisica quindi dopo una passeggiata intensa la temperatura aumenta e il cane chiaramente respira per cercare di dissipare questa questa temperatura corporea che sale ma bisogna cercare di aiutarlo per evitare chiaramente il colpo di calore quindi cosa dovete fare fondamentalmente rifornirvi durante le passeggiate per esempio di una borsa frigo con dei polaretti e metterli a livello inguinale a livello ascellare per cercare di ridurre la temperatura dare acqua fermarsi spesso fare sosta all'ombra e fare tutta una serie di situazioni evitare di salire sulla macchina che è stata al sole ma piuttosto accendere il climatizzatore aspettare quei cinque minuti cinque sei minuti che la temperatura all'interno dell'abitacolo diminuisca e poi salire col cane non fate mai l'errore di salire direttamente molti dicono tiro giù i finestrini ma ripeto il problema è soprattutto all'inizio entra il cane anche se voi tirate giù i finestrini non è che partite di 200 all'ora vi entra dentro un'aria pazzesca e quindi vi consiglio fondamentalmente di accendere l'aria condizionata far sì che la temperatura ovviamente scenda per poi far salire i cani soprattutto poi stare attenti sulle razze ovviamente brachicefale che sono più a rischio di colpo di calore nel caso in cui il cane cominciasse a barcollare collassare ipersalivare quindi iniziare ad avere un colpo di calore necessario ovviamente subito cercare di rinfrescarlo e portarlo dal medico veterinario che cercherà di gestire sia il discorso del calore e quindi cercherà di raffreddarlo attraverso ripeto ghiaccini attraverso aria condizionata e poi fondamentalmente cerca di gestire tutta la situazione legata al possibile shock quindi di solito fluidoterapia farmace anti shock copertura antibiotica che fondamentalmente per evitare la morte poi del soggetto è molto importante ripeto però che i proprietari sappiano la motivazione per cui i nostri cani sono più soggetti al colpo di calore rispetto per esempio a noi e quindi evitare certe situazioni perché fondamentalmente fa la differenza di avere un cane col colpo di calore o meno quindi ridurre le passeggiate come tempistiche quindi non fare passeggiate di 40 50 un'ora fermarsi spesso far abbeverare il cane portarsi sempre dietro magari dei ghiaccini dei polaretti per appoggiare al corpo in modo da raffrescarli avere sempre acqua a disposizione evitare di salire sull'auto anche se è stato all'ombra magari l'auto cercare sempre di non salire immediatamente col cane ma di accendere il climatizzatore climatizzare bene l'abitacolo prima di salire spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima